Il nuovo ospedale di Siracusa avrà 420 posti letto e il finanziamento per costruirlo sarà di 200 milioni di euro. Dopo tante battaglie sostenute senza guardare in faccia nessuno e nell'interesse esclusivo del nostro territorio, abbiamo ottenuto ciò che abbiamo chiesto con forza e determinazione, lo dichiara l'ex deputato regionale Enzo Vinciullo. Il risultato positivo è il frutto di anni e anni di lotta. Il nuovo ospedale di Siracusa sarà dea di secondo livello con valenza di bacino e avrà fino ad un massimo di 420 posti letto, attingendo l'aumento sia alle riserve di rete sia alla rideterminazione dei posti letto delle strutture non attivate. L'intervento potrà raggiungere i 200 milioni di euro, risorse che trovano copertura in quelle liberate dal presidio ospedaliero Cervello, già finanziato nel primo stralcio e approvato dal Ministero della Salute. Le risorse verranno riprogrammate attingendo dai fondi statali. Finalmente un risultato positivo per la nostra provincia, che vede riconosciuto il proprio ruolo politico non subalterno a nessun altro territorio. Adesso, a concluso Vinciullo, si proceda con la spiditezza dovuta alla scelta dell'area necessaria per la costruzione di un ospedale idea di secondo livello. Grazie.